Mi sto occupando del fenomeno migratorio, devo dire che io sono stato il relatore ombra per i socialdemocratici per quanto riguarda uno dei dossier dei cinque che compongono il patto asile e migrazione e devo dire che dopo cinque anni di lavoro, che ho lavorato tantissimo, quello che abbiamo, io ho detto che la montagna ha partorito un topolino, onde per cui voteremo contro sicuramente in plenaria, nella prossima plenaria, nell'approvazione di questo patto asile e migrazione, anche se, devo dire, la parte di cui mi sono occupato io, un miglioramento c'è stato, ma siccome i vari dossier sono interessiati fra di loro, allora credo che non possiamo fare altro che cercare di non far passare questo patto, perché non è altro che la replica di quello che abbiamo avuto fino adesso, cioè dire il regolamento di Dublino, non migliora nulla, o anzi migliora poco, ma è troppo poco, per cui ecco, è meglio non farlo passare e quindi ricominciare magari cercando di trovare quei compromessi, trovare le soluzioni, perché io credo che comunque è la politica che deve dare le risposte, la buona politica, quella politica lungimirante, quella politica razionale, è che ovviamente cerca di governare il fenomeno migratorio e non contrastarlo, perché con il contrasto non si va da nessuna parte. La dimostrazione è che dopo 30 anni che noi, ecco, affrontiamo il fenomeno migratorio con il contrasto, i risultati sono quelli che continuano a contare morti, continuano a parlare di emergenza sbarchi, di emergenza migrante, quanto è invece il fenomeno migratorio, fenomeno non problema, fenomeno migratorio, è un fatto strutturale, è sempre esistito, esisterà sempre e di conseguenza dobbiamo effettivamente capire tutto questo, quindi cambiare paradigma, cambiare strategia e poi affrontarlo e governarlo con lungimiranza, con intelligenza, con razionalità e sicuramente anche con un po' di umanità, che è la cosa più importante, perché stiamo parlando di esseri umani, stiamo parlando di donne, uomini e bambini, per cui anche questo fattore che è principale per me, cioè l'umanità, è essenziale, non possiamo fare morire queste persone, non possiamo trattare queste persone come dei numeri o quando arrivano quelle che riescono ad arrivare, buttarle in mezzo alla strada, nelle mani dei criminali, nelle mani della malavita, nelle mani di chi li sfrutta e li schiavizza, schiavi dall'altra parte e schiavi anche dalla nostra parte. E siccome noi, come dire, qualcuno dice abbiamo bisogno, io dico queste persone ci possono aiutare, e invece dobbiamo approfittare di queste persone per farci aiutare, loro aiutano noi e noi aiutiamo loro.